Sono cammino nei parchi fra sentieri di cerri e faggi e quello che stai per vedere è solo una parte della mia storia perché la vera scoperta sarà nei giorni lenti di quando l'attraverserai. Lui è Pino non si direbbe ma è un tipo dinamico amante dello sport e della natura è una guida dei parchi naturali della Basilicata. Ogni mattina Pino si sveglia e sa che dovrà affrontare tante avventure mantenendo pulito l'ambiente, vigilando sui malintenzionati e lasciando sempre intatta la natura che lo ospita. Ogni mattina Pino si sveglia per affrontare queste avventure alla sua maniera, alla maniera di Pino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.